Michele Chiodo, sindaco di Soveria Mannelli, siamo qui al stadio Antonio Leo per il primo memorial Angelo Colosimo e Sandro Spina. Un evento questo importante per la nostra città che testimonia il legame profondo tra la squadra della Garibaldina e la comunità, una comunità che è stata sempre molto legata alla propria squadra e il ricordo di tanti giovani e tante persone che hanno praticato questo bellissimo sport, che hanno speso la loro gioventù anche giocando, allenando questa squadra e la testimonianza del legame profondo che c'è. Angelo Colosimo, che è stato per me anche un collega, è stato per tanti anni prima giocatore e poi allenatore della Garibaldina. Sandro Spina è un giovane che è venuto a mancare pochi anni fa in maniera così inaspettata, ma oltre a loro ci sono tante altre persone che purtroppo in questi anni abbiamo perso, ma che erano sempre legati a questa meravigliosa squadra. Grazie a tutti.